Buonasera a tutti i presenti. Noi oggi recuperiamo il seminario che dal calendario era previsto per l'8 febbraio, l'abbiamo recuperato questa sera. Il seminario è tenuto da Giampiero Valoti, il titolo è Come appare dalla slide, l'altro Crespi, quindi un appartenente alla famiglia famosa dei Crespi, quindi imprenditori nel campo tessile, quindi poi la fila sottotitola filatura di cotone di Benio Crespi a Nembro. Presento il relatore, spero di non omettere nulla di importante della tua attività, parlando prima, quando hai iniziato le ricerche, le ha iniziate le prime ricerche che ha svolto nell'84, quindi potrò dire che è sulle barricate della storia da 40 anni. Di cosa si è occupato Giampiero Valoti? I suoi interessi riguardano soprattutto la storia della cultura materiale, dell'alimentazione e del lavoro. Ma ha studiato anche alcuni personaggi importanti, che sono stati importanti nella storia di Bergo, ma anche nella storia nazionale, che si sono occupati nell'ambito della difesa dei diritti del lavoro e delle rivendicazioni salariali. Cioè in anni in cui, stiamo parlando, inizio del Novecento, in cui i diritti sindacali erano ancora in gran parte da conquistare. Lui ha pubblicato molti saggi e articoli, molte monografie e articoli su riviste, non vanno in ordine cronologico, ma ho strutturato una presentazione più tematica. Rispetto agli ambiti di ricerca che ho appunto delineato, ricordo il famoso Polente Picasso, Polente Picasso, alimentazione contadina delle valli bergamasche, uscito nel 1994 con la casa editrice Junior. Riferito appunto a un personaggio famoso, il suo saggio monografico, apparso sui quaderni della cultura di base, di cui lui è stato anche componente del comitato di redazione. Quindi è dedicato al ribelle bianco, Romano Cocchi e le agitazioni dei lavoratori nel Bergamasco, nel 1919-1922, uscito nel 2008. Poi sempre legato appunto a un personaggio importante come un masso di granito, l'azione sociale di Don Franco Carminati a Grumello e all'ufficio del lavoro di Bergamo, che è stato pubblicato nel 2018 dalla parrocchia di Grumello del Monte insieme alla Cisla di Bergamo. Lui è molto legato anche al suo paese, al suo territorio, paese Nembro, territorio intendo media valseriana, nel senso anche ampio, la Bergamasca, e a queste realtà ha dedicato anche studi sulle condizioni di vita e di lavoro e alle aziende di questa parte della Bergamasca. Ricordo la prima pubblicazione, quella con cui ha esordito insieme ad altri, che è Nember, Long e Picadur, del 1990. Però la ricerca, mi diceva, era iniziata a metà degli anni Ottanta. Lui qui ha lavorato con altri, penso, amici, studiosi. È stato molto importante come esempio di storia anche attraverso le fonti orali. Loro hanno intervistato ancora persone viventi che erano testimoni di questa civiltà contadina e di questa civiltà di fabbrica che purtroppo adesso è scomparsa. Sempre legato a Nembro, il cento anni di calce e di lavoro a Nembro, i cugini, cioè la famiglia Cugini e la loro impresa, uscito per la Fondazione della Storia Economica e Sociale di Bergamo nel 2007. E poi, sempre legato a personaggi di Nembro che hanno agito in questo comune, lui ha tenuto nella ventunesima edizione dei nostri seminari Funti e Temi di Storia Locale del 2018-19 un seminario su Alessandro Valli dalla Società Umanitaria. Ecco, la Società Umanitaria di Bergamo è stato uno dei suoi ambiti di ricerca. Quindi Alessandro Valli dalla Società Umanitaria al Premio Bontà Maria Valli. Ecco, l'ultima fatica è questa, qui mi fermo, poi gli passo la parola, molto bella, è questo, pianti animali del mondo contadino bergamasco. Cioè, se io non vorrei esagerare nei toni, sembra proprio un cantore di questa civiltà, se uso toni poetici dico un cantore di questa civiltà contadina, perché qui mischia la descrizione dell'importanza di questi animali nella vita quotidiana contadina e anche la descrizione della natura, del paesaggio, quel paesaggio tanto bistrattato oggi, ma anche tradizioni alimentari. L'altro giorno, mentre mi stavo preparando così, nei ritagli di tempo, la presentazione, ho letto il capitolo sul coniglio. Già l'esordio mi dice, il vecchio parte ogni mattina con un sacco di iuta buttato sulla spalla e una piccola roncola infilata nella tasca posteriore dei pantaloni. Però spiega, questo vecchio qui è una persona di 84 anni ed è dritto e slanciato come un giovane frassino, ha lavorato poi in fabbrica. E subito a me questo esordio, questo incipito, mi ha richiamato il giovane signore di Parini e oggi l'ho stampato. E sorge al mattino in compagnia dell'alba prima del sole che in seguito compare enorme sull'estremo orizzonte e porta beatitudine agli animali, alle piante, ai campi e alle onde. Allora il buon contadino si alza dal caroletto che la moglie fedele e i suoi figli hanno intiepidito durante la notte, poi portando in spalla i sacri attrezzi che per prima scoprirono cerere e pale. Ecco, qui c'è della poesia secondo me, oltre che una ricerca seria sulle tradizioni e sulla cultura popolare, sull'agricoltura del passato. Per poi allargare, finisco veramente, dice, in quel passaggio dove dice chi è, dice, quel vecchio che alleva i conigli, nonostante tutto, in modo precario ma consapevole, è la punta di un iceberg grande che ha propagine in tutta la provincia di Iberia, con questo sguardo che parte da Nembro o dalla media valseriana, però si rivolge anche a tutta la realtà bergamasca. Si può ragionamente pensare che al pranzo di una domenica qualsiasi, soprattutto in autunno e inverno, in una metà delle famiglie della provincia bergamasca si mangi polenta e coniglio e quel coniglio spesso non proviene dal supermercato. Ecco, vedete queste sopravvivenze, una civiltà che purtroppo sta scoprendo. Adott'altro io sono stato un bambino che ha mangiato e cresciuto a polenta e coniglio la domenica, mi sono ritrovato molto in queste parole. Però oggi non parliamo di agricoltura, ma parliamo di attività imprenditoriale e di industria, quindi ti lascio la parola. E mi scuso se ho omesso qualche tua ricerca importante. Grazie. Grazie Cesare, grazie. Grazie, troppo buono. Tra la roggia seriola, la roggia serio grande e la roggia morlana, lì, dicono le fonti, il nostro Benigno Crespi, 1848-1910, attenzione alle date, 48, tanto è vero che partecipa alla terza, lui giovanotto, 18enne, partecipa alla terza guerra di indipendenza, combatte là, vicino a Bagolino, al Monte Suello, a 18 anni, chi non combatte? Poi lavora presso il fratello Cristoforo Benigno, quello di Crespi d'Arda, e poi nel 78, 1878, ha 30 anni, è un giovane ancora, compra un pezzo di terreno nella località Prati, badate bene, località Prati è un toponimo, i Prati sono pochi in Val Seriana, devo chiamare Prati, che è chi lei Prati? C'è, sono quelli lì, non ce ne sono altri, e di là, dal fiume c'è Prava Lunga, Prato Lungo, Prati, tra la roggia serio e la roggia morlana. Tutti e due questi canali che sono vecchi, sono nati nel Medioevo, per tutt'altri scopi, per i mulini, per i magli, per i pestoni da corteccia, adesso, dopo sono diventati anche fonte di evacuamento per il grano turco, adesso diventano fonte di energia elettrica, e lui lo vede già questo. In località Prati compra un appezzamento di terreno, da una famiglia Riccardi, che è una delle famiglie più cospicue di Nembro, e costruisce la prima parte del suo stabilimento tessile. In quel momento, seconda metà dell'Ottocento, partendo da Bergamo, su fino a Clusone, all'Olcese di Clusone, nascono 20 industrie tessili. I paesi cambiano aspetto, da agricoli industriali quali erano, perché qualche piccola industria c'era anche prima, della lana, eccetera, diventano industriali agricoli. Una rivoluzione, un cambiamento fondamentale, e la Valseriana diventa quella piccola Manchester, come è stata definita. E lui prende, guardatela lì, l'immagine dello stabilimento, del serio, e il serio allora non era come oggi, ogni tanto divagava, invadeva i terreni circostanti, siamo negli anni 50. Qui c'è già la seconda parte dello stabilimento che lui aggiunse dopo. Tanto è vero che ancora oggi i vecchi operai di Nembro dicono la sala Egia e la sala Neua, oppure la sala alta, la prima costruita, e la sala bassa. E le due rogge segnano ancora queste due. La prima è vicina alla rogge Serio Grande, la seconda è addirittura sopra la rogge Morlana, perché passa dentro nello stabilimento stesso e hanno dovuto anche abbassarne un po' il letto per creare il salto d'acqua per produrre energia. Le vedete le due rogge, una qui e una qui. Oggi di questo complesso industriale è rimasta solo la ciminiera, è rimasta la ciminiera e un'altra cosa importante, la casa padronale. Ed è per questo che il comitato di quartiere di San Faustino, dove aveva sede la fabbrica, ha pensato bene di cercare notizie, di tirare insieme un po' di materiale su questa fabbrica che ha dato lavoro a tanta gente di Nembro e che adesso è scomparsa, anche se, come vedremo, non è finita del tutto la vocazione industriale di quell'area. Un'altra immagine? In fondo, o il Gesù di Nembro, la parrocchia. E questo è lui. Questa è una copia dal ritratto che Guido Tallone, che voi conoscete meglio di me, ritrattista di industriali, eccetera, ha fatto, e questa è la copia che si trova nell'asilo infantile Benigno Crespi di Nembro. Filatura di cotone. Filatura di cotone. E a Nembro, l'anno prima, era nata un'altra industria, e questo che contribuì a cambiare il paese. La tessitura di cotone, Blumer, Blumer è un nome che è capitale svizzeri, argomento studiato, eccetera, Blumer. Due industrie che hanno cambiato il volto della media valse, della bassa, della media valse ariana, e di Nembro in particolare. Ecco la sua, la casa padronale. È rimasta, è stata restaurata, otto stanze, uno scalone solenne di marmo. Qui è nata, è nato il primo dei figli di Benigno Crespi. Lui ha avuto tre figli in ordine, Mario, che è nato qui nel 1879 e che fu senatore del Regno dal 1934, Aldo, che è il padre di Giulia Maria Crespi, la fondatrice del FAIO e che tutti conoscete, e che quel legame con l'agricoltura di cui parleremo l'ha mantenuto fino alla fine e i suoi figli, adesso il suo figlio, continuano a bere e guardo. E poi il terzo, Vittorio, gran cacciatore. Anche il padre aveva la passione per la caccia, per la verità. Ma allora si andava a caccia di larga lungo il fiume. Non posso spiegarvi adesso cos'è la caccia di larga, bisogna fare una lezione a sé. La sala bassa, probabilmente negli anni successivi, lì attorno al 1900, grande sviluppo, grande sviluppo industriale, la Crespi va a gonfie vele e lui raddoppia lo stabilimento. Dalla sala alta costruisce la sala bassa. Ma noi abbiamo perché vi metto la testata del campanone. Nel 1888 il campanone settimanale della diocesi di Bergamo, settimanale battagliero, in prima pagina riportava spesso la scritta il campanone suona per il popolo. e poi c'erano le rubriche che erano l'arringo dell'operosità di quelli che lavorano e poi nella penultima pagina la campagna si dirigeva e si indirizzava a questa. Nel 1888 lancia un'idea dice noi vogliamo raccogliere notizie esatte su per la salute per la salvezza per l'emancipazione fisica e morale dei nostri lavoratori. Non vogliamo raccogliere notizie esatte sulle condizioni dei lavoratori nelle industrie. Capiscono che si sta cambiando e poi il mondo cattolico ha presente che l'assembramento di un così grande numero di persone soprattutto donne nella fabbrica tessile crea dei problemi di moralità e di salute per cui deve intervenire e dice se non lo farà qualcun altro ci metteremo il muso usa proprio questo noi e il questionario del campanone è una fonte importantissima per lo studioso e guardate bene che su all'archivio di Ocesano l'archivio storico di Ocesano nel fondo Rezzara la fabbrica tessile meglio documentata da questo questionario è la Crespi di Nembro il nostro Benigno Crespi o il suo direttore hanno risposto perfettamente a tutte le domande e quelle lì se le leggiamo se le leggiamo solo alcune ti fanno capire com'era la vita in quel periodo la domanda era per quanto dura il lavoro per tutto l'anno il lavoro dura ore 13 quale intervallo è lasciato per desinare un'ora d'inverno e due d'estate vengono adoperati i fanciulli o fanciulle a quale età si accettano erano 15 le domande e quante ore giornaliere di lavoro debbano fare se accettano fanciulli e fanciulle a 12 anni compiuti era la legge del 1886 che lo prevedeva e per tutte le 13 ore di lavoro come gli altri operai e qui una digressione nelle testimonianze a cui ha fatto riferimento il professor Fenili delle testimonianze orali c'è queste qui che raccontano ho cominciato a lavorare a crepe così e il direttore diceva fammi vedere le mani controllava che ci fossero tutte le dita che non ci fossero menomazioni che non ci fossero atrofizzazioni perché lì erano le agili dita delle fanciulle che servivano le attaccafili nei ring che dovevano prendere il filo e che si rompeva e ricongiungerlo con l'altro capo si è rispettato il giorno festivo eccetera e poi chiede una delle domande gli operai e le operaie sono ascritti ad una società di mutuo soccorso ed in caso affermativo a quale società risposta un buon numero sono ascritti alla società federativa cattolica del luogo la sede era a Nembro nella sala delle riunioni di fronte alla parrocchia di San Martino c'era una sala che è stata fino a pochi adesso è diventata una banca ma fino a un po' di anni fa era la sala delle associazioni Nembresi tutti poi si attenzione novità assoluta tutti poi si ritengono come ascritti nella persona del proprietario signor Crespi alla società anonima di assicurazioni generali di Venezia fondata nel 1831 lui aveva fatto una assicurazione per i suoi operai poi chiede quali sono le malattie predominanti negli operai e nelle operai dello stabilimento tendenza all'etisia la tisi la tubercolosi negli operai giovani e deboli di complessione fisica c'è poi un altro piccolo lui fa un'aggiunta aggiunta alle risposte a cui ha dato già se si comparano con le altre di altre ditte quelli là stavano stavano legati rispondere se si va a vedere la sua un'aggiunta e dice da circa due mesi il Crespi aveva chiesto di far lavorare un certo numero di operai anche di notte perché eravamo in pieno sviluppo no? il cambio degli operai si fa la sera alla mattina non a mezzanotte si è tentato di far lavorare nelle ore oltre la mezzanotte che appartenevano a giorni di feste mobili un certo numero di operai ma in vano perché gli operai non hanno condisceso e alla mezzanotte sono usciti dallo stabilimento non si lavora la domenica e questo del lavoro domenicale tornerà cent'anni dopo perché tornerà nel 1980 negli anni 80 quando molte fabbriche tessili lombarde lavoravano non solo alla notte ma alla domenica e questo era il lavoro notturno domenicale perché dopo la mezzanotte l'uomo era certamente un democratico dicono le fonti amava intrattenersi con i suoi operai passava molti mesi dell'anno nella sua villa che avete visto e conosceva tutti direttamente la sua scomparsa nel 1910 prematura che forse prematura lo dice il figlio Aldo dei tre quello che forse ha seguito di più la filatura di Nembro quando dice mio padre avrei voluto che fosse accanto a me ancora per un po' di anni non era ancora pronto a prendere in mano e questo la dice lunga sulla personalità dell'uomo lui aveva trovato i capitali per fondare questa fabbrica probabilmente anche grazie al matrimonio con Giulia Morbio che era ricca che aveva tanti terreni e proprietà in provincia di Novara era anche nobile di origini ma a quanto ho saputo dalle testimonianze orali perché è morta nel 44 lei dunque e molte persone l'hanno conosciuta e dicono veniva giù la sera a recitare il rosario alla Camaser casa contadino Massero in Bergamasco è contadino Massaro è contadino è il mezzadro è il colono veniva giù a recitare il rosario e poi dice un'altra fonte testimonianza le piaceva bere il latte appena munto quello che fa ancora la schiuma non so se vi è mai capitato è ancora caldo dunque era una nobile ma di buone poi le cose genuine piacciono a tutti piacciono a tutti non c'è non c'è classe che tenga io vi presenterò delle immagini e io farò solo le didascalie questi sono alcuni settori sono i rings anello è l'ultima fase della filatura del cotone questi sono filatoi continui ad anello prima c'erano i self acting che erano filatoi intermittenti e più pericolosi più pericolosi e questi erano più produttivi e naturalmente meno la pericolosità c'era sempre ma meno pericolosi dei self acting nei quali un carro si spostava dentro la macchina stessa eccolo qui vi da l'idea della questa è della dimensione fusi perché bisogna in valle seriana nel 1000 i fusi sono quelli che avete visto prima ma i fusi sono queste matasse diciamo di cotone 1890 240 mila fusi in valle seriana soltanto bergamo ne aveva 530 mila crespi da crespi 14 mila siamo nel 1890 pochi anni dopo la fondazione ma subito aumentano nel 1902 ha raddoppiato da 14 mila è passato a 30 mila fusi nel 1907 sembra addirittura sui 40 50 mila e l'industria cotoniera bergamasca in quegli anni fa furore e raggiunge i 511 mila fusi l'industria cotoniera bergamasca e nel 1922 dopo la prima guerra mondiale che fu per l'industria bergamasca del tessile un'occasione di grande sviluppo aumentati ancora nel 35 40 621 mila fusi in bergamasca la Crespi di Nembro arrivata ai 50 mila 60 mila è stato il punto massimo di fusi che ha avuto il numero degli operai vi dico la verità non sono riuscito a stabilirlo con precisione perché le fonti sono troppo contrastanti però ho questo di sicuro che nel 1955 di cui parleremo tra poco quando c'è la grande crisi dell'industria tessile nazionale e della Crespi di Nembro gli operai erano 1060 quando ci saranno i licenziamenti generali qualche fonte azzarda anche che negli anni precedenti verso la seconda guerra mondiale e forse anche durante la seconda guerra mondiale gli operai fossero più di 1500 ma su questo dato fatto sta però che non c'era famiglia Nembrese che non avesse un suo membro un suo parente un suo zio occupato alla Crespi e la Crespi accoglieva anche operai provenienti dai paesi circondicini da Prada Lunga da Cornale e aveva fatto costruire a sue spese perché eccolo poi parlo del villaggio eccola qui una passerella questa è già quella in cemento armato in calcestruzzo costruita nel 27 prima fino ad 800 e fino ad 900 passerella in legno e precisano le fonti con illuminazione attenti all'illuminazione perché lui di corrente elettrica non lesinava ce l'aveva ce l'aveva la corrente elettrica e la vendeva e non non la risparmiava appena arrivato anche su quello non costruisce fa costruire da prima di sicuro uno il primo la prima casa per gli operai perché in quel questionario dell'88 di cui vi ho letto qualche passo si dice dove la domanda di dove vivono insomma questi operai e così e una la risposta è alcuni già in una casa fatta costruire probabilmente negli anni successivi in questi anni a cavallo del 900 altre case sorgono fino a completare il villaggio del Crespi basso perché diciamo basso perché è proprio lì vicino alla fabbrica vicino e siamo giù al piano del serio e per distinguerlo dall'altro Crespi l'altro villaggio Crespi Crespi alto costruito sopra in un'altura dove passa la strada provinciale quello molto più tardi nel 1940 e ne parleremo qui dentro abitano molti operai che pagano una miseria di affitto e la manutenzione straordinaria è alla Crespi per cui c'era anche un po' di frizione diciamole tutte le cose come stanno tra quelli che abitavano dentro qui erano favoriti e quelli che invece abitavano a casa loro nelle loro abitazioni e così via questo è il convitto qui è una riproduzione è un quadro non esiste più è stato abbattuto il convitto subito fino a 800 prima del 900 viene creato questo edificio per ospitare le ragazze che venivano da fuori quello dei convitti è un argomento interessante è studiato vi ricordo al convegno sul mondo cattolico che se ne parlò perché le fabbriche specialmente le fabbriche tessile che avevano una numerosa maestranza femminile gestiti dalle suore per la moralità eccetera e qui c'erano delle suore che gestivano il convitto le ragazze arrivavano alla domenica sera o al lunedì mattina dipendeva da e ripartivano poi al sabato al sabato sera tornavano la la Crespi assumeva anche nei momenti più difficili e la gente arrivava dai paesi della bassa bergamasca quei paesi che le fonti dicevano che erano i più svantaggiati spesso là c'era la pellagra e una storia anche quella e il paese di Nembro in pochi anni aumenta la sua popolazione da 3.000 passa prima a 6.000 in misura ben superiore alla percentuale di aumento degli altri paesi della Val Seriana e della Bergamasca in generale proprio perché la Crespi aveva indotto questo è un sguardo d'insieme degli anni 50 su in alto a sinistra si vede la chiesetta di San Faustino e su più in alto ancora la casa colonica di San Faustino pubblicità della Crespi telefono vedete che il numero filati e nastri siamo già negli anni 40 però con questa immagine ma io prima di passare alla la roggia scorre qui lì c'era anche il lavatoio le donne andavano a lavare voglio dirvi due parole sul villaggio perché siamo negli anni 50 al Crespi c'era amicizia le porte non avevano le chiavi sono cresciuto dice uno nel rispetto degli altri anche nelle piccole cose come non far rumore in casa e sulle scale che erano comuni e a Crespi c'era tutto era un piccolo microcosmo bocce e biliardo gli operai andavano giù a mangiare al dopo lavoro poi c'era lo spaccio facevi le spese con l'ibretto e la trattenuta veniva trattenuta sulla busta paga alla sera d'estate le famiglie si incontravano portavano giù la sedia e stavano lì fuori a chiacchierare non è come adesso adesso non si conoscono neanche più nemmeno fra persone che abitano in appartamenti vicini al Crespi c'erano anche i musicisti e lo ricorda Gianni Bergamelli che era è nato musicista e pittore che certo conoscete che è nato in questo nel quartiere operaio e lui ricorda tutti autodidatti tutti autodidatti e dice la passione per la musica a me mi è nata proprio lì e i primi soldi che ho guadagnato li ho guadagnati suonando in una festa avanzante oppure per Capodanno proprio lì nel dopolavoro del Crespi perché quel palazzo che è quello lì di cui avete visto prima l'immagine nel quadro dopo diventò il dopolavoro non fu più convitto quando ormai le operaie forestiere chiamiamo erano diminuite non c'era più senso per mantenere diventa il dopolavoro con attività ricreative e appunto un vero microcosmo qualcuno ricorda che l'estate un operaio dello stabilimento la signora portava i bambini delle famiglie operaie in riva al serio a giocare ognuno di loro portava con sé qualcosa per la merenda e poi in serio era lì a pochi passi naturalmente i ricordi leopardi i ricordi del passato sono sempre sono sempre piacevoli qualche lite ci sarà stata anche lì qualche di sicuro però le porte non avevano le chiave andiamo avanti perché se no qui è lunga la storia cosa c'entra questa condotta forzata guardate che lì ci sono i porcini io ve lo dico dopo voi non ci dici qual è la località qui lì ci sono di sicuro è una stagione buona siamo a Valgoglio siamo sulla condotta forzata che dal lago nero dal lago nero scende verso Valgoglio e poi verso Gromo e porta l'acqua alla prima delle due centrali dopo lui ne ha fondate anche altre ma la prima è quella sulla strada che vedete adesso c'è scritto Enel perché dopo il 63 naturalmente sono passate all'Enel ma lì all'inizio era ecco qui l'abbiamo vedete la centrale Crespi qui un'altra immagine Gromo Gromo siamo proprio sulla strada provinciale per Val Bondione certo questa invece è la centrale di Aviasco un po' più da qui si departono le due valli la Val Sanguigna che qualcuno conosce bene e la Val la Val Goglio e i due torrenti sono stati uniti per portare più acqua e per muovere le turbine sia della centrale di Rom e questa invece mossa dall'acqua proveniente dai laghi perché questi cinque laghi Lago Succotto Laviasco Campelli Cernello eccetera sono stati sbarrati sono stati fatte delle dighe e l'acqua serviva per produrre energia elettrica la Crespi si vantava l'Aldo Crespi il figlio di avere una linea di trasmissione della corrente elettrica tra le più potenti d'Europa negli anni negli anni che siamo intorno agli anni 20 dopo gli anni 20 quando si costruiscono le centrali 20-30 quando nasce la figlia Giulia Maria del figlio di Aldo appassionato e forse guardate bene la passione per la montagna per la natura che è stata trasmessa dal padre che era un alpinista il padre fa costruire su vicino al Lago Nero che è appena qui dice un altro lago che si chiama Resentì perché è un laghetto piccolo dove fa Resentì è la casa per la figlia che deve andare su a a villeggiare la capana Giulia Maria e nelle sue memorie lei ha scritto un libro intitolato Il mio filo rosso le memorie grosse ricorda quando andava su con le amiche e dice i rododendri che avevo più belli che ho visto nella mia vita e lei ha girato il mondo e poi andava nella baita del mandriano del malghese a bere il latte a provare il formaggio e così via ricordi dolcissimi Capana Giulia Maria c'è ancora c'è ancora dopo che era passata all'Enel naturalmente insieme alle altre proprietà ma alcuni nembresi appassionati di montagna negli anni 80 l'hanno comperata e l'hanno fatta diventare la base per le loro escursioni per cui c'è ancora la capana Giulia Maria un altro capitolo importante abbiamo parlato del villaggio Crespi l'asilo infantile c'è ancora è un fiore all'occhiello davvero della comunità di Nembro oggi si chiama Crespi Zilioli perché i contributi dell'opera Pia Zilioli ma è nato come asilo infantile è stato lui il promotore ha chiesto aiuti a tutti ha messo i primi soldi questa è la facciata sud era da qui che si entrava c'è una descrizione di un giornale di un settimanale di quei tempi che dice Nembro che aveva le più belle scuole costruite fino a 800 della Val Serial non poteva non avere anche un bellissimo asilo infantile tenete conto che le leggi non prevedevano allora costruzioni di asili molti paesi cominciavano ad averli per iniziative private e questa fu una di quelle fu una di quelle adesso è stato ingrandito e lui dice quando posano la prima pietra diventerà una un presidio per i nostri futuri giovani e qui troveranno accoglienza e si occupava anche del materiale didattico della la luce ce l'aveva le lavagnette ecco qui un'altra immagine l'hanno l'hanno disegnato due ingegneri che avevano studio a Nembro Bonorandi e Fossati gratuitamente allora la gente faceva queste cose ordina il materiale di dati o se no sarà stato lui sarà stata la direttrice dall'asilo alla vita paravia che conoscete ancora e poi ha un'altra vita che mi sembra di aver sentito ancora che si chiama fratelli Bolis erano qui 1909 buste e questa è cancelleria invece l'altra sono proprio le lavagnette 18x27 rigate poi scatole per matite serie di 6 strisce per prima classe buste 300-400 bambini dice e le mamme quello cattivo quello che pensa male dirà si lo faceva perché così le mamme erano più liberi di andare a lavorare alla fase si certo però lui dice quando torneranno a casa i bambini nel pomeriggio li vedranno ancora e li abbracceranno con maggiore affetto e poi ringrazia tutti in questo discorso quando posano la prima pietra e dice il vostro il vostro beneficio quello che avete fatto di bene sarà centuplicato sarà ricompensato cento volte eccoli qua cortile e questi sono gli anni 50 così dopo è stato ingrandito questo primi decenni del novecento tutti con la divisa la chiesetta di san faustino circondata dai filari di vite adesso è circondata da villette a schiera da palazzine e la vedete ancora se la cercate bene però qui è circondata dai perché due chiese due chiese due luoghi di culto sono presenti nel quartiere questa che è la chiesetta di san faustino e l'altra giù in quel palazzone che abbiamo visto del dopo lavoro ricavata in un locale del palazzo stesso perché diceva così gli operai del villaggio avevano la possibilità di andare alla messa prima e poi a 50 metri c'era l'entrata dello stabilimento la storia di questa chiesa è interessante è stata ristrutturata grazie ancora ai crespi alla Giulia Morbio che respi perché negli anni 20 appunto il marito era morto e lei chiama notate bene un architetto che dal Politecnico di Milano a fare la ristrutturazione lo stesso architetto che gli aveva costruito il palazzo là a Milano qui azienda agricola è interessato all'agricoltura vuole migliorare tanto è vero che quando arriva e questo lo fanno anche gli onegger che sono lì vicini o confinano per certi compriano il terreno i terreni quelli che riescono a comprare quelli che erano in vendita dalla riva del fiume la riva a destra fino su allo spartiacque del Monte Ceretto è tutto loro e lo stesso fa Crespi compra cascine compra terreni lavorati da mezzadri e queste informazioni le devo a Franco Innocenti una novità ad Albino dove pure il Crespi aveva terreni c'è delle marcite che sono queste davanti al palazzo la Caffatur esiste ancora oggi c'era un terreno pianeggiante tra la chiesa del pianto e appunto la via principale condotta a marcite nel villaggio operaio che abbiamo visto ecco qui l'immagine dopo attraversata dalla strada che ha tagliato di netto ma vedete i canalini dello scorrimento dell'acqua del torrente e quella è la chiesa di San Giuliano questa è la Kama Ser la casa dei mezzadri del villaggio di Nembro e vedete qui c'è un rastelù il rigatore per seminare il grano turco e così allevamento dei bacchi da seta tutto tutto quello che era era contemplato insomma nell'agricoltura tradizionale alcune immagini abbiamo il sindaco di Nembro l'esmo il procuratore Franco Bertolini e Don Giuseppe Adobati personaggio importante nel libro di Barbara Curtarelli sui sacerdoti ho fatto il prete c'è c'è anche lui ha una pagina e la meritava importante perché invece la persona al centro chi è? è un procuratore dopo la morte di Benigno Crespi e gli anni che vanno fino al primo dopoguerra da quel momento lì la fabbrica viene i figli si occupano sì e no perché hanno tanti altri interessi c'è il corriere c'è e si affidano a dei procuratori che hanno carta bianca e questo in un primo tempo nei primi anni ci fu il procuratore Trezzi Anselmo Trezzi che era un'autorità in fatto di filatura del cotone e faceva parte anche degli organi dirigenti delle corporazioni fasciste di quel settore lì poi questo invece fu il procuratore Bertolini più diplomatico non esperto forse di filatura e di attività tessili ma insomma era a lui che si rivolgevano e qui dobbiamo fare si crea nella fabbrica negli anni 50 e 60 le fabbriche tessili sono sempre state a prevalenza sindacato Cisler lo sapete perché la storia si tiene era dai tempi del primo dopoguerra quando ci sono stati appunto i cocchi movimenti dei primi sindacati di tessili la commissione interna della Crespi scrive scrive al procuratore scrive ai fratelli Crespi chiede una specie di compartecipazione chiede di poter contare di poter avere voce in capitolo quando si si presenta nel 1954 lo spettro del licenziamento dice dobbiamo trovare un modo dobbiamo quella compartecipazione che era stata un cavallo di battaglia delle forze cattoliche nel primo dopoguerra e lì c'era un nome Giovanni Gronchi che era diventato proprio in quegli anni nel 1955 presidente della repubblica e allora la commissione scrive a Giovanni Gronchi e gli dice tu che conosci il mondo e poi scrivono al vescovo e poi il vescovo cerca di coinvolgere un altro prelato milanese che conosce la famiglia Crespi ma le difficoltà erano indotte da un elemento fondamentale che le macchine che loro usavano erano ancora quelle dell'Ottocento erano obsolete funzionavano ancora benissimo perché erano probabilmente macchine di grande però necessitavano di troppe operazioni manuali e allora il direttore ecco qui così le vedete queste macchine dobbiamo avviarci allora vado avanti nel 1900 ecco qui la Giulia Crespi col bouquet che viene a visitare e il direttore c'è il cappello in mano e quello è il cugino qui rinfresco dentro il dopo lavoro la Giulia Crespi è sempre questa con il giacone marron in mezzo alle operaie che hanno ricevuto il premio di fedeltà al lavoro bravo esatto questo è il gestore del bar eccole qui festicciola questa è la batteria di cucina perché il dopo lavoro produceva anche la minestra per gli operai del Crespi per i familiari i familiari avevano a disposizione un buono andavano là col buono col pignetì con la pentolina e quella taglia riempiva di minestra ottima minestra eccole qui al lavoro cuffie sui capelli ecco qui Teresina Armati al lavoro ai rings corso di economia domestica il movimento cattolico dice le donne strappate dalla famiglia e mandate in fabbrica perdono forse le conoscenze adeguate per condurre avanti una famiglia ecco che Donita Lo Sala personaggio notevole del clero Nembrese organizza all'inizio degli anni a fine anni 50 forse prima i 60 corso di economia domestica utilizzando dove la cucina del Crespi c'hanno lì tutto le batterie da cucina e così via ingresso di Don Giuseppe Adobati nel quartiere e Don Giuseppe da uomo di grande spiritualità e di grande generosità e di spirito umano di umanità grande insomma adesso tutta roba grande e della io l'ho conosciuto bene ha cercato di creare nel quartiere una forma di comunità di un sentimento di solidarietà tra le attività ricreative c'erano anche i giopini fino al 1954 perché se no avete visto ieri sera che dopo il 54 siamo là davanti allo schermo 1955 e questo è un abilissimo burattinaio nembrese Miss Mara e dietro di lui c'è il maestro Aldo Rizzi personaggio interessante che meriterebbe di essere studiato autore di testi in dialetto in bergamasco stato prigioniero in Germania e quando è tornato ha scritto un libricino intitolato per due patate un sacco di legnate e quello vi dice già tutto pagavano la colonia anche i bambini delle famiglie operaie andavano in colonia praticamente gratis con l'Enal di Bergamo c'era una cooperazione e qui siamo probabilmente a Gatteo Maro a Pinarella di Cervia siamo sempre sull'Adriatico 1955 il presidente della commissione interna Mario Signori Mario Signori legge il messaggio di saluto al Vescovo Piazzi che vedete tagliato sulla sinistra perché lo hanno invitato per la Pasqua e per dirgli quali erano le condizioni qui minacciavano i licenziamenti e nel messaggio che c'è è trascritto dice lei che conosce il mondo può capire come mai meglio di noi ci aiuti insomma purtroppo però i licenziamenti arrivarono e altra bella immagine premiazione anni 50 sono tutte fotostoriche tutte eccolo lì questo è Mariolino Crespi il figlio di Vittorio figlio del terzo genito e alle sue spalle il quadro di tallone di cui vi ho detto anche qui Giulia Maria col tagliare chiaro queste sono le 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 cuoche della cucina questa è la meccanica perché ve la mostro e perché vi mostro questa scritta perché nel 44 quando gli alleati hanno cominciato a bombardare di brutto e la l'ansaldo l'industria metallurgica di Genova trasferisce parte dei suoi reparti in Val Seriana tra cui Nembro poi Albino all'Onegar c'era un deposito poi a Gazzaniga in 5 o 6 fabbriche a Ponte Nossa si dovevano fabbricare rifinire i cannoni i cannoni ma di cannoni rifiniti ne uscirono ben pochi perché insieme all'ansaldo ai macchinari vennero qui molti operai genovesi sindacalizzati e antifascisti che applicarono il boicottaggio e c'è una descrizione che dovevamo fare la rigatura la rigatura dentro il fusto della canna del cannone ma o l'attrezzo andava troppo o l'altro gli dava una gomitata o l'altro oppure prendeva il disegno di un cannone per un altro una gran confusione così che di cannoni ne uscirono ben pochi nei primi mesi nessuno e Goering era furente ci sono le testimoniali però di cannoni alla fine ne sono usciti alcuni ma ormai la guerra era persa e l'ansaldo oggi parlare dell'ansaldo a Nembro è ricordo di un'attività che non ha portato a benefici a quelli che credevano di poter eccolo qui un tornio dove era questo è un aspetto della manifestazione del 55 siamo qui fuori qua lo vedete una delegazione è stata ricevuta dal prefetto ma il numero dei licenziati è stato alto lo stesso la metà dunque da 1060 530 licenziamenti una cosa che non era mai successa e che creò contrasti tra quelli che erano stati licenziati e quelli che si adottò il criterio di licenziare quello che aveva magari un altro familiare oppure figlio di coltadini perché il coltadino non muore mai di fame eccetera eccetera ma insomma eccole qua le ultime immagini che vi mostro sono quelle ah perché dobbiamo concludere nel 1972 la Crespi vende vende alla manifattura di Legnano grande industria tessile che aveva altre otto fabbriche sparse in tutta Italia nel nord Italia soprattutto e vende anche il villaggio operaio il villaggio operaio lo acquistano quelli che erano dentro praticamente con l'aiuto anche del comune insomma tutti case che a ristrutturare erano meritavano e la Legnano va avanti amplia anche grazie a un direttore molto capace Renato Fabiani che per quei vent'anni diresse insomma la fabbrica va avanti ancora fino al 2007 quando dopo che la Legnano è fallita chiude perché ormai sono rimasti 100 operai che vengono messi in mobilità cioè vengono licenziati finiva così la storia della Crespi che era nata nel 1878 e che oggi ha chiuso i battenti da un bel po' però c'è questo da dire non è diventata né un museo né niente è diventata l'area una cittadella del lavoro perché è stata smembrata alcune ditte hanno comperato dei pezzi oltre a questi la Fassi eccetera e nella Crespi è diventata una cittadella del lavoro e questo forse nello spirito del suo fondatore queste sono immagini degli ultimi anni degli anni 80-90 questa si chiamava così dopo che era intervenuta la manifattura di Legnano manifattura Crespi di Nembro questa è oggi vedete che ci sono già capannoni di nuove di nuove dite e questo è vi preannuncio che queste cose che vi ho detto insieme a tante altre saranno contenute in un libro che spero veda la luce prossimamente io le bocce le ho corrette adesso e vi ringrazio grazie Gampiero della tua interessante del tuo interessante seminario di tutte le cose che ci hai detto adesso abbiamo forse uno spazio per dieci minuti non so chiedo a chi più di me sa l'orario preciso abbiamo dieci minuti non so se c'è qualcuno del pubblico e della caratteristica dei seminari a Chiovergamasco dare la possibilità anche al pubblico intervenuto di fare delle domande di chiarimento piuttosto che interventi sul tema presentato dal relatore se non c'è nessuno io ne avevo preparate alcune posso fartele una che mi ha voglio capire le fonti che tu ci hai presentato da dove da quali archivi provengono sia quelle fotografiche che quelle invece le documentarie te le dico tutte così sono tre dopo se non ti dimentichi poi ti suggerisco l'altra cosa come arrivava il cotone sappiamo che a un certo punto c'era la ferrovia ma prima come arrivava il cotone quando lui fonda la filatura e da dove arrivava se è possibile non è che tu devi sapere tutto l'altra cosa io mi ero letto il profilo di Roberto Romano che ha studiato ha scritto questa grande monografia sui crespi ancora pubblicazione da Franco Angeli dove dice parlando lui ha curato i due profili del benigno del cristoforo benigno crespi e dice che appunto il benigno crespi di Nembro di Nembro non fonda questa filatura ma non ha mai messo i reparti di tintoria e di tessitura vabbè per la tessitura abbiamo capito l'anno dopo arrivano i bloomer mi sembra che hai capito quasi contemporaneamente quasi contemporaneamente quindi non c'era bisogno di una però la tintoria non c'era queste sono le domande che le ho fatte sì sì ho capito parto dall'ultima la tessitura c'era bloomer non ha mai neanche la tintoria insomma il cotone era molto pregiato era considerato una delle filature il cui cotone era il migliore andava all'estero in un primo tempo solo in Brianza dove c'erano tante tessiture e lui veniva da Bustosic e conosceva perfettamente in un secondo tempo negli stati balcanici la Jugoslavia la Romania c'era un'immagine con uno il marchio di fabbrica della Romania la materia prima dove arrivava la materia prima arrivava da Genova quello e in principio con Caret con i carri perché il Benigno che stava attento ai soldi perché anche il corriere stava attento e dice sì adesso c'è la ferrovia ma i carri arrivano quando vogliono loro noi li vogliamo pronti perché avevano e allora suppliva spesso che portavano fino a Bergamo al treno alla stazione o forse anche solo a Nembro perché c'era dopo l'84 c'era la stazione la stazione di Nembro le fonti le fonti ah sì sì le fonti l'archivio della Crespi è andato disperso non 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 però le fotografie le fotografie quelle dei reparti sono rimaste erano c'erano quando io le ho viste negli anni 80 che ho cominciato quella ricerca e le avevo riprodotte quelle in bianco e nero anche quelle erano di proprietà di uno di un dipendente che è quello vicino al tornio che abbiamo visto che aveva passione alla fotografia e a me le aveva prestate insomma per dopo questo signore è morto io non so più che finale fonti difficili da recuperare non so se c'è qualcuno voglio chiederle una cosa lei prima ha parlato che le macchine erano pericolose questo vuol dire che c'erano molti incidenti sul fortuna ci sono stati alcuni incidenti sul lavoro ma dirò una cosa che gli operai del Crespi a Nembro venivano chiamati i Marsù del Crespi perché perché si questo dai contadini da quegli altri che vivevano all'area Marsù perché erano nell'aria tenete conto che c'è umilità e dice una fonte si vedeva il polviscolo alleggiare nell'aria gli incidenti erano frequenti ci sono stati casi di storpiatura alle mani alle gambe però i Marsù del Crespi perché stando vicino alle macchine specialmente nei primi anni nel self-acting che erano imbevute d'olio le gambe le famose gambe di fabbrica di cui parla Stefano Merli il racchettismo e poi dovuto all'umidità dell'ambiente all'umidità dell'ambiente e all'olio che imbeveva tutte le macchine bene ti ringraziamo tanto e quando poi uscirà il libro ce lo dirai così lo compreremo grazie a tutti vi aspettiamo il prossimo incontro grazie grazie grazie